Ragazzi, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Prima di tutto volevo dedicare un carissimo saluto a Raul Albiol, che da ieri è ufficialmente un calciatore del Villareal. Si sapeva già da qualche settimana, infatti ci feci anche il video, mancava soltanto l'ufficialità che è arrivata proprio ieri. Dispiace molto perché era uno dei calciatori ai quali ero maggiormente affezionato, è stato parte integrante del Napoli, un vero leader, un calciatore che ha mostrato attaccamento alla maglia, però ci sta che dopo sei stagioni in azzurro nelle quali ha dato tutto, abbia preso la scelta di tornare a casa, cioè in Spagna. E' bellissima la sua lettera scritta ieri dedicata a noi napoletani ed una lettera nella quale descrive alla grande queste sei stagioni passate in azzurro. E quindi che dire, grazie di tutto Raul e buona fortuna per il futuro. E ieri non soltanto c'è stata l'ufficialità di Albiol, ma c'è stata anche l'ufficialità del riscatto di Ospina. Il Napoli ha esercitato il diritto di riscatto di 4 milioni di euro e quindi da ieri David Ospina ufficialmente è un calciatore del Napoli a tutti gli effetti. Anche questa cosa qui la sapevamo già da qualche settimana e mancava soltanto l'ufficialità. E sono davvero molto contento. Il Napoli ha fatto una scelta più che giusta perché Ospina andava confermato assolutamente dopo questa prima stagione nella quale ha fatto davvero ottime cose, si è ambientato subito e si è mostrato un portiere di esperienza e che ti dà affidabilità tra i pali. E poi può fare benissimo da chioccia a Meret, il classico portiere di esperienza che può far crescere anche il portiere giovane. E io comunque gli farei fare il portiere di Coppa, cioè in campionato farei fare il titolare a Meret, mentre poi nelle coppe può benissimo giocare Ospina perché poi vediamo diverse squadre in Europa che nelle coppe, soprattutto in quelle internazionali, fanno giocare il portiere di maggiore esperienza mentre poi in campionato fanno giocare il portiere più giovane e talentuoso. E ovviamente come portiere giovane e talentuoso noi abbiamo Meret che speriamo durante questa stagione continuerà a portare avanti il suo percorso di crescita. E spero che il pacchetto portieri venga tenuto per intero e che quindi resti anche Carnezzis perché anche lui comunque quando è stato chiamato in causa dopo un precampionato non convincente si è dimostrato un portiere affidabile. Ed Ospina ora tra qualche settimana sarà a Di Maro, una settimana fa è uscito dalla Coppa America con la Colombia, Colombia che ha perso ai quarti di finale ai calci di rigore contro il Cile e ora caro David mi raccomando portaci anche Ames Rodríguez. Oltretutto tra i due c'è un rapporto davvero molto stretto perché praticamente sono cognati la sorella di Ospina è stata la moglie di Ames Rodríguez. Ma comunque poi ovviamente anche la figlia di Ames Rodríguez è la nipote di Ospina ed infatti c'è anche una certa somiglianza tra Ospina e la moglie di Ames Rodríguez. Ma comunque per quanto riguarda Ames Rodríguez io sono fiducioso. Spero e credo che si farà però credo che ci vorrà un bel po' di tempo e che quindi dovremo avere pazienza e speriamo che almeno prima della fine del ritiro riusciremo ad ufficializzare questo acquisto. Si parla che potrebbe arrivare tra il 20 e il 21 luglio. Io proprio in quei giorni sarò a Di Maro e quindi speriamo davvero bene. Ritiro di Di Maro che inizierà domani, domani pomeriggio ci sarà il primo allenamento al campo di Carciato però mancheranno davvero in molti perché non mancheranno soltanto i nazionali che hanno partecipato alle varie competizioni per nazionali ma mancheranno anche i calciatori che hanno giocato a giugno con le rispettive nazionali. Quindi diciamo che i primi giorni di ritiro saranno un po' blandi visto che per la maggior parte sono giovani o calciatori che andranno via e quindi speriamo che tutti vengano a Di Maro il prima possibile. Diciamo che di calciatori che sicuramente faranno parte del Napoli nella prossima stagione ce ne sono soltanto un 7-8 e quindi ragazzi, detto questo io vi saluto noi ci vediamo ad un prossimo video e sempre Forza Napoli!